Ed eccoci con voi, come promesso, eccoci con l'ospite, saluto subito Rocco Burtone e ti ringrazio per questa levataccia caro. Aspetta che mi devo ancora svegliare. Ciao e buongiorno a tutti. Allora, tra le mani il buon Rocco ha il burtonario, che cosa hai raccontato? Ho fatto cinque burtonari, questo è il quinto. Il burtonario è un libro che parte dall'inutile, non serve a niente, però probabilmente diventa importante nel momento in cui tu lo prendi. Non lo leggi da solo, ma lo leggi soprattutto se hai un accompagno con la tua compagna o con un amico, con un parente. Perché io lo vedo, siccome è un libro di aneddoti, di battute, di facezie, a volte importanti, a volte meno importanti, Ecco che se tu lo leggi a qualcuno diventa più immediato e così riesci a comprendere quello che il burtonario è. Perché alla fine è un dizionario che non vuole dire nulla, ma come tutte le cose che non vogliono dire nulla, a volte sono più importanti di quelli che vogliono dire troppo. Ho capito. Ma questi aneddoti risalgono a che periodo? Ma guarda, io li scrivo un po' a tempo perso, come puoi immaginare, e quindi quest'ultimo l'ho scritto nell'ultimo anno, un anno, un anno e mezzo, insomma. Prendo questi appunti, li scrivo. Oltretutto non è soltanto di aneddoti, perché la seconda parte è il burtonario di Lemmy e Popsie. Le Popsie sono cosiddette poesie pop che io scrivo dagli anni 70, da quando in un circolo culturale cominciamo, ascoltando il poeta famoso sul palco, cominciamo noi del pubblico a scrivere delle frasi buttate lì per caso, e dal caso sono nate queste Popsie che poi negli anni continuano a portare avanti. Nella prefazione che c'è, che è di Angelo Floramo, del libro, per esempio lui parla molto delle Popsie, ci gioca un poco, sai come Angelo è uno che ama giocare. E in più ci sono le vignette di Claudio Poldo Parrino, anche dentro naturalmente, non solo nella copertina, che danno un po' l'idea del burtonario. Vedi, c'è questa vignetta che mi piace moltissimo, c'è lo struzzo e l'uomo, e l'uomo che alza le mani come per dire chissà cosa accade. Quasi nulla, qualcosa, chi lo sa. Siete, è nominato, così divaghiamo un attimo, il buon Floramo sarà protagonista alla festa di Rivignano. Festival mondiale della canzone funebre, abbiamo come presentatore ufficiale Angelo Floramo. Ci sarò anch'io con lui, e quindi dialogheremo. Noi cerchiamo di portare questo festival a livelli importanti, e quindi pur essendo un festival divertente, allegro, vogliamo anche che possano essere affrontati argomenti inusuali per un festival così, insomma. Ed ecco che porteremo questo personaggio sul palco, vediamo cosa accadrà, sarà un po' una sorpresa. Perché un uomo che dove va? Ecco, e qui abbiamo il buon Campigotto che è andato a cercare qualche immagine d'archivio su YouTube. Una specie di robinù. Di che anno risale questo, chissà dove si trova Rocco Burtone. Anche scrivendo canzoni. Penso che... Oddio, no. Che bello dopo il terremoto. Ah, questa è la presentazione di un CD a Spilimbergo, il teatro Miotto, credo... Che bello dopo il terremoto. Ecco, e Burtone, vedo che hai queste locandine, questi libri, ti stai muovendo su più fronti. Ma, per esempio, vorrei citare la Casa del Blues, perché il mio progetto è fatto insieme ai proprietari del Mulinar di Villalta di Fagagna, dove noi portiamo la musica blues all'interno di un locale. Però, quello che voglio sottolineare è che è un progetto importante perché vanno sul palco quei musicisti che hanno qualcosa da raccontare, hanno veramente qualcosa da dire. Lo facciamo ogni anno a ottobre. Sai, il problema in questi casi non è tanto la tua voglia di fare una cosa, ma di trovare la collaborazione da parte del titolare del locale, che non pensa solo al fattore commerciale, ma vuole insieme a te condurre e proporre qualcosa di culturale. Ecco che la Casa del Blues diventano allora delle serate dove anche si parla, si discute di blues, perché poi il blues, vabbè, ormai è diventato un'etichetta, è un marchio, però, diciamo, si espande un po' nel jazz, un po' nel rock. Infatti, i musicisti che vi partecipano suonano di tutto. Chi sono i musicisti? Per esempio, adesso ti cito proprio quelli di domani, che sono i Blue Cash, che sono Andrea Faidutti, Alan Malusamagno, Marzio Tomada, Alessandro Mansutti. Questi sono musicisti, per esempio, professionisti, che girano tutta l'Europa e che noi vedremo anche sul palco del Moulinard a Villalta di Fagagnano. Dopo avremo gli Stress Groovin e chiuderemo con Jimmy Barbiani come ogni anno, perché Jimmy, penso che tu lo conosca, musicista importantissimo anche lui, abitando lì vicino, diciamo, è l'ospite finale che chiude la serata. Quest'anno poi lui porterà degli strumenti molto particolari, molto vintage. Beh, ci sarà l'organo Hammond, naturalmente, ma poi ha promesso anche amplificatore degli anni 60, 70, quindi sarà bello anche, oltre che da ascoltare, anche da guardare, da vedere. Forse anche per aprire un discorso, qualche cosa, anche sulla strumentazione, sulla storia. La storia della musica è fatta di strumenti, insomma. Quanto è compreso il blues in Friuli? Beh, non solo in Friuli diciamo, il blues ha delle difficoltà, qui da noi non è mai stato un genere proprio di grandi appassionati, però c'è questa frangia, perché guarda che, a parte che qui vengono sin dal Veneto, c'è una frangia di, perché la casa del blues porta gente strana. Vedi, il ragazzo di 15 anni, naturalmente viene accompagnato dal padre, poi ti accorgi che non è stato il padre a obbligarlo, ma è un ragazzino, anche lui appassionato, che è venuto, che viene ad ascoltare. Però è una musica che ormai ha avuto un'evoluzione, il vecchio blues della Louisiana, non si fa più quello. Non è più attuale. È difficile, non è che non sia più attuale, gli stessi neri d'America non vogliono più che si parli solo di quello. Il blues non è più schiavitù, non racconti più la schiavitù, ormai è un dato di fatto, per cui il blues si è evoluto e è diventato anche bianco nel tempo. Oggi il fatto che un italiano faccia blues non è una bestemmia, 50 anni forse lo era, era già più difficile, no? Chiunque può fare, abbiamo grandi bluesmen qua. Flavio Paludetti è stato in America a perfezionarsi, per esempio. Cioè, è stato suonare qui, non so, cito Tolo Marton, che è un grande bluesman, che è l'unico italiano ad aver vinto il premio Hendrix in America. Cioè, ecco perché ti dico, noi facciamo musica in un locale, nei locali, ma poi alla fine sono gli stessi artisti che vedi al Giovanni Daudine. Solo che al Giovanni Daudine, giustamente, devi pagare un biglietto. Qui da noi non paghi nessun biglietto e vieni, mangi e bevi, se vuoi. Rocco, c'è una cosa che non hai ancora fatto nella tua vita, nella tua carriera musicale? È il conduttore, come si chiama il tuo programma, quello che fai la sera? Ah, dello scrigno? Il conduttore dello scrigno a Telefriuli. Ah, ti manca... Io sto parlando un po' con i proprietari Telefriuli. Però, magari... No, tu però non devi andare via. Facciamo assieme? Collaboratore, collaboratore. Ah, ti fiancheggio. Senti, tu, questi sono... mi hai mostrato un libro, ma ce n'è un altro, vedo, sotto sotto. Sì, poi ho fatto... non poi, anzi, prima. Questo è un romanzo che amo molto, mi piace molto, perché racconta... Mostra, mostralo così, il nostro campicotto. È una storia dei ragazzini, fra Spilimbergo e Udine, ed è... mi piace perché quando tu scrivi un romanzo è difficile che inventi tutto quanto. Ci devi mettere qualche cosa, un parterre che richiami la tua infanzia, che richiami le cose che sai. Io ho raccontato due ragazzini inesistenti, inventati, ma che poi sono gli stessi amici miei che erano piccoli con me, in un modo o nell'altro. C'è anche la figura di un maresciallo, per esempio, che poi nel gioco delle invenzioni ho chiamato volutamente Dino Campana, che poi questo maresciallo dei carabinieri è un cultore di letteratura. Pensa che mi era stato... sono stato accusato e dice come un carabiniere che si interessa di letteratura, di poesia, non esiste. Io ho contestato questa cosa. È come se le categorie fossero bianche, nere e basta. Infatti il mio carabiniere è una persona colta, simpatica, intelligente ed è lontana mille miglie dalle barzellette, insomma. Senti, ma quella macchina gialla mi ricorda un mezzo storico degli anni... La macchina gialla è una Ami 8 Citroen che io ho posseduto, in tutti i sensi posseduto, anche fisicamente. La mia però era familiare. Grandi sospensioni? Madonna, faceva dei salti pazzeschi e devo dirti che in quegli anni, agli anni 70, noi compravamo le macchine più brutte del mercato. Perché era bello, ma era bello. Io ho avuto due NSU Prince, per esempio. Verde? Una verde, una era verde e mettevo il cappello. E giravi? Sì, sì, nessuno mi ha arrestato. Cioè, voglio dire, a parte che in questo caso la Mi 8 era una macchina anche grande, che serviva per portare strumentazione, eccetera. Insomma, vedi, tutte queste storie che accadono, a me piace perché io dico sempre una cosa. In Friuli accadono, io sono una di quelle persone che cerca di far accadere le cose, no? Ma guarda che ne facciamo tante, sai. Io, prima hai citato Angelo Floramo, ci sono mille Angeli Floramo in giro, ci sono mille Tavan, Federico Tavan, in giro, che fanno un sacco di cose. Basta andarli a conoscere. Forse siamo un po' pigri in questo, perché noi ci impigriamo, poi citiamo e andiamo a casa sempre degli stessi, no? Ma muovendoci un po' di più scopriamo che c'è anche il vicino di casa degli stessi, che anche lui ha delle cose interessanti da raccontare. Io ho la fortuna di conoscere molti musicisti, ti garantisco che i più bravi non sono quelli più conosciuti. Ci sono ancora, soprattutto dei giovani. Da sotto Bosco. Sì, perché fanno fatica, perché poi anche fra di loro, fra di noi musicisti c'è una specie di corporativismo, insomma. Io quando chiedo a qualcuno, questo mi dice sì, sì, io organizzo lì, sai faccio suonare quel mio amico perché lui l'altra volta ha fatto suonare me. C'è questo concetto del piacere, che è anche una forma di educazione, per carità. Però dovrebbe avere alle spalle anche un'equazione che abbia a che fare con la qualità, prima di tutto, altrimenti non vale, non serve. Rocco, abbiamo esaurito il nostro tempo. Sono esaurito anch'io, adesso vado a dormire. Grazie. Grazie a te. Torna quando vuoi. Va bene. Allora, noi adesso ci fermiamo, salutiamo ovviamente Rocco Burtone e poi ancora un po' di Rassegna Stampa, tra poco. Grazie.